Si è conclusa la quarta edizione del Festival Letterario Autori in Costa, ieri nella suggestiva cornice dell'Hotel delle Rose a Portocervo, si è tenuto l'ultimo appuntamento della rassegna con la partecipazione di Enzo Iacchetti, notovolto della tv italiana. L'evento culturale, ideato e creato da Fulvio Giuliani, giornalista di RTL 125 e direttore del quotidiano La Ragione, in questa stagione ha ospitato personaggi di spicco, come il giornalista Daniele Capezzone, il critico cinematografico Gianni Canova, Roberto Arditi, Luca Zaglia e ieri la serata finale con Enzo Iacchetti. Ci siamo divertiti, sono venuti a trovarci personaggi veramente di alto livello, ma soprattutto persone che sono state bene con noi e noi siamo stati bene con loro, quindi consentitemi questo passaggio. Noi crediamo che Portocervo meriti più dal punto di vista culturale e degli incontri e degli scambi culturali ed è quello che proviamo a fare. A chiudere la quarta edizione è stato Enzo Iacchetti, attore storico conduttore di Striscia la notizia, che tornerà alla conduzione il prossimo 9 dicembre insieme a Ezio Greggio. Durante l'evento, Iacchetti ha dialogato con Fulvio Giuliani, raccontando i primi passi della sua carriera dal teatro alla televisione e intrattenendo il pubblico con aneddoti divertenti e anticipazioni sui suoi progetti futuri. Un musical che partirà in novembre da Sisi, che porta bene, che si chiama Tuzzi dal film con Dustin Hoffman. È un musical molto bello, è la prima volta in Italia, quindi c'è molta attesa. La serata si è conclusa con lo spettacolo di Gerri Calà, chiudendo in bellezza la quarta edizione di Autori in Costa.